Studio notarile Genghini e Guadagno Lo studio notarile Genghini e Guadagno svolge la propria attività notarile in materia immobiliare, societaria e successoria presso le sedi di Milano e Cinisello Balsamo. Studio notarile Genghini e Guadagno Sui servizi notarili digitali e banta collaborazioni decennali con aziende e consulenti del settore della sicurezza informatica e della standardizzazione della firma digitale. Lo studio cura da sempre in modo specifico il diritto societario internazionale e nei rapporti con i clienti privati privilegia una specifica attenzione ai diritti del consumatore, collaborando in materia con organismi italiani ed europei. Grazie 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 Grazie